San Arretto, San Antiglio di Davido Ciao bruciacchiati, bentornati sul canale, 41esimo Motorraduno Fossano, avete visto poche clip ma tanta gente, tante moto, intrattenimenti e la santa messa, ora ormai mi conoscete io non sono un grande frequentatore di questi eventi ma come diceva mia nonna una benedizione male non fa e sulle moto ne abbiamo veramente bisogno il programma di oggi prevede un pranzo in un posto tipico piemontese, infatti vi porto a Murazzano alla Penta siamo un bel gruppo di moto, anzi veramente adesso siamo solo io, Ale ed un suo collega e a vedere l'ora direi che gli altri sono già quasi arrivati a destinazione intanto vi dico che Ale ha di nuovo cambiato moto, ha preso un bel tenere 700 che logicamente mi farà provare perché altrimenti lo depenno dalla lista degli amici e a proposito di Ale e delle sue moto, 4 anni fa in questa stessa occasione, in questo stesso punto di strada, gli scoppia la ruota posteriore dell'Africa Twin fortunatamente non è successo niente, si è risolto tutto in un grande spavento e in un recupero di fortuna della moto se non avete visto il video ve lo metto qua sopra nelle schede in descrizione e questo mi fa pensare che mia nonna tutti i torti sulla benedizione non ce ne aveva infatti Ale era proprio qua comunque doveroso un chiarimento perché Ale mi ha già cazziato nel video di qualche settimana fa sulla fauniera dissi che Ale aveva un KTM 1090 correzione 1190 va bene Ale? ma ora bando alle ciance e andiamo a pranzo a 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